Nette e chiare le motivazioni della sentenza di Bari depositate dal giudice Antonio Diella, sentenza con la quale il 4 maggio scorso aveva disposto l'assoluzione con formula piena del direttore di Telemolise Emanuela Petescia e del magistrato Fabio Papa, accusati dal presidente della regione Paolo Frattura e dal suo avvocato amico Salvatore Di Pardo di tentata estorsione e di altri reati assoluzione con formula piena ovvero comma 1 dell'articolo 530 del codice di procedura penale che cancella ogni dubbio insinuato dai querelanti e amplificato da certa stampa asservita al potere perfino dopo il dispositivo di assoluzione con formula piena. Le motivazioni riportate anche dall'ANSA spiegano con precisione e puntigliosità le ragioni della soluzione basate soprattutto sulle risultanze delle indagini tecniche svolte dal tribunale su richiesta degli imputati e sulle prove incomputabili dimostrate da Emanuela Petescia durante il processo. Le accuse non sono supportate da uno spessore di credibilità scrive il giudice mentre le analisi tecniche sui tabulati e sulle celle telefoniche non solo non forniscono la prova della cena ma verosimilmente la escludono quando all'ipotesi di reato per calunnia commesso da Paolo Fratturo e da Salvatore Di Bardo il giudice scrive testualmente non vi è alcuna necessità di valutare un dato ulteriore a conferma della caluniosità delle accuse rivolte agli imputati anche alla luce di quanto argomentato nella presente sentenza già contenente di per sé materiale di interesse per il PM. Soddisfatta Emanuela Petescia che in una nota inviata alla stampa ha scritto Siamo stati assolti con formula piena ed è un sollievo dopo tre anni di ingiusti tormenti. Questo processo avrebbe potuto aprire una terribile falla nella giustizia. La libertà di accusare le persone di reati gravissimi con ritardo biblico rispetto ai fatti è senza una prova che non fosse il racconto confuso e contraddittorio degli stessi accusatori. Siamo riusciti a dimostrare la nostra innocenza e ora siamo parti offese di un processo per calunnia. Per quanto concerne infatti le affermazioni sulla presunta mancata valutazione di caluniosità da parte di Diella mi preme sottolineare, ha aggiunto Petescia, che il giudice non si pronuncia non essendo tecnicamente il dominus dell'azione penale ma sollecita la procura a verificare il materiale di interesse emerso dalle sue stesse motivazioni. Del resto la procura di Bari ha già iscritto, sinta al deposito del dispositivo, frattura e dipardo nel registro degli indagati per calunnia, così come ha iscritto gli ex dirigenti della squadra mobile di Campobasso, autori di informative alterate e manipolate, nonché di intercettazioni abusive. Manuela Petescia ha comunque annunciato una conferenza stampa che terrà lunedì alle 16 e 30 all'hotel San Giorgio di Campobasso, unitamente agli avvocati Arturo Messere, Erminio Roberto e Paolo Lanese. Fin qui la nota di Manuela Petescia. A questo punto tutti i nodi di una vicenda triste sono stati sciolti, tranne uno, il presidente Paolo Frattura, ha ancora i requisiti morali per guidare la regione dopo quanto accaduto e gli altri 20 consiglieri regionali, 5 Stelle compresi, resteranno ancora con la bocca cucita come hanno fatto per tre anni su tante vicende scandalose. Nei giorni scorsi il presidente della Valle d'Aosta, accusato di calunnia, si è dimesso il giorno prima della mozione di sfiducia, ma forse dalle nostre parti è un altro mondo, un mondo dove illegalità e immoralità vincono su tutto e restano impunite.